eccoci qua anche questa settimana cari amici termo web eccoci qua con salvatore ciao salvatore e con la ralda abruzzese allora salvatore vediamo subito cosa ci dice questa settimana la ralda abruzzese intanto ne abbiamo nella prima pagina come al solito la notizia che noi andiamo poi a di cui parleremo subito e purtroppo non è una bella notizia e del terremoto che c'è stato in iran in turchia e siria è una cosa che veramente ci ha colpito tutti quanti anche per il numero di persone che sono state coinvolti in questo terremoto fortissimo e voi avete pensato anche di fare un articolo sì perché è un evento mondiale di un dramma unico nella storia e non potevamo non parlarne prima di tutto e non parlarne con evidenza cioè mettendolo in prima perché veramente l'entità del sisma i danni che ha provocato i morti che ci sono stati sono realtà vive drammatiche che ci devono far riflettere la turchia non è molto lontana da noi ma anche se fosse lontana il dramma resta tale la turchia e la siria la siria martoriata dalla guerra dai problemi interni adesso ulteriormente colpita dal dramma del terremoto dal dramma del terremoto purtroppo in un periodo anche molto freddo lì noi stiamo al calduccio delle nostre case e non ci rendiamo conto di chi vive un freddo tremendo è un terremoto e vive questa realtà nella strada o comunque in rifugi approntati all'ultimo momento chiudo il discorso del terremoto con c'è stato un movimento di solidarietà addirittura mondiale e anche la caritas si è mossa anche per raccolta fondi per il terremoto e chi volesse proprio in prima pagina abbiamo dato anche il riferimento per chi volesse in qualche modo coinvolgersi con un contributo seppur piccolo seppur di lieve entità ma è un segno di solidarietà concreta sai ieri guardando anche le notizie del telegiornale tra le tristi notizie mi ha colpito quella che una giornalista mi ricordo siamo una o un giorno ma è indifferente quello ha detto si stanno ancora trovando le persone vive ma giovani è un bambino di otto mesi bambini piccoli il loro fisico resi ha resistito più degli altri e questo io ho pensato come la vita vuole andare avanti in questo bambino di otto mesi si è riuscito a resistere sotto le macerie per un tempo lunghissimo in realtà le cose e poi anche di una persona che strato alle macerie anche la moglie tutte e due salvi seduto vicino alle macerie di casa sua che diceva io non ho più niente sono scene drammatiche veramente drammatiche dobbiamo cambiare argomento allora le croci di vetta sul gran sasso d'italia questo lo so è questo è un argomento che a te piace tanto quando si parla di montagna è molto interessante perché sono state fatte delle schede su queste croci di vetta e da noi ne abbiamo sì 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 perché prima di tutto perché l'araldo uno degli obiettivi che si sta dando l'araldo è quello di cercare di dar voce a chi non ha voce la montagna ultimamente non ha voce e non occorrono non occorrono commenti perché vedi vedi sappiamo vedi tutti sanno l'ultimi eventi e quanto accade e come la montagna è amata in questo periodo con la neve per inciso prateditivo nonostante tutte le difficoltà gli impianti chiusi piena di turisti in cerca di natura in cerca di aria in cerca di vita la montagna è vita e da respirare a pieni polmoni ed è da tutelare e la montagna e la montagna appunto ha tradizionalmente dei simboli e conserva dei simboli nonostante tutte un simbolo comune a tante montagne è quella della della croce se vogliamo è un po' io l'accosto in genere anche a allissare la bandiera in cima al monte assieme a allissare la bandiera in genere si pone una croce ma è una croce che è un simbolo forte un simbolo importante è un simbolo purtroppo spesso calpestato e qui lo devo dire alcuni commenti noi abbiamo riportato l'articolo di uno studioso che ha presentato un volume sulle croci di vetta ed è una bella ricerca una ricerca molto interessante non sono altrettanto interessanti commenti e qui lo devo dire specialmente quando qualcuno parla di croce come un ammasso di ferro vecchio peraltro anche inquinante qui ritorna il discorso dei simboli dei simboli che sono di fede ma sono dei simboli culturali e giustamente l'articolista dice anche simboli culturali in quanto sono annoverabili e annoverati come opere d'arte come opere d'arte e in quanto tali li dobbiamo rispettare si gioca tanto sulla laicità probabilmente qui anche la laicità della montagna ma la montagna è laica la montagna la montagna per giove ma la montagna la montagna il crocifisso non è non è il simbolo esclusivo dei cristiani ma è un simbolo che unisce l'uomo vabbè ormai sono le solite polemiche le sappiamo nella scuola adesso nella montagna non importa non importa quello che con le croci in montagna fammi fare una battuta la nostra croce e la funivia che non funziona quella è una croce di fatto della funivia che non funziona però vabbè speriamo adesso nuovo nuovo aggiunta provinciale sappiamo quello che succederà anticipo al 99 per cento la prossima settimana all'araldo ci sarà l'intervista al nuovo presidente che intendiamo porre al nuovo presidente e proprio le aree interne la montagna gli impianti di prati di tivo e prato selva cosa accadrà lo rimandiamo quindi ne parleremo obbligati siete obbligati a comprare la rada abruzzese già questa settimana per la prossima settimana mettete la sveglia al telefonino al 90 per cento ci sarà l'intervista vediamo cosa ci dirà se ci dirà li apriamo vediamo cosa dirà li apriamo l'anno prossimo l'inverno ormai è andato va bene speriamo noi siamo sempre fiduciosi andiamo avanti oggi un altro momento tre argomenti domenica c'è stata la giornata per la vita e la festa anche la pace qui nella nostra diocesi ma anche in altre parti ed è stato molto interessante devo dire la verità un convegno un incontro che c'è stato e dove teramo web era anche presente abbiamo mandato il servizio integrale dove l'avvocato michaeletti ha parlato proprio della vita della vita uno può dire sì ma l'avvocato michaeletti di parte e quindi sono discorsi che si fanno nelle sacrestie diciamo no e però in realtà il suo discorso è stato più ampio ma il centro è sempre quello chi ha diritto alla vita quello rimane sempre ma ci dimentichiamo vogliamo fare come vogliamo che ne pensa alvatore ma non credo che possa esserci difficoltà nel chiarire il fatto che la vita è un dono ma prescindere anche a prescindere dal fatto che si voglia dire che la vita è un dono la vita è da tutelare e da tutelare in ogni caso e non credo che si possa dire a prescindere da una fede non credo che si possa dire che ognuno di noi è padrone della sua vita è un po' un uscire fuori dai binari ma della logica comune non di una professione di fede purtroppo purtroppo sono troppi gli eventi troppe le situazioni nelle quali la vita viene ridotta scusate la volgarità a merce adesso non mi serve più e la butto non non si riesce a cogliere l'obiettivo centrale della vita la vita è continuare la creazione e continuare la dinamica di crescita di persone e di cose che ruotano attorno alle persone e nell'articolo che avete pubblicato l'articolo conclude citando la cei citando la cei citando l'uomo qualunque diciamo dove si dice che la vita sta diventando come dicevi una merce di scambio la vita non è più un valore ma una merce di scambio dovremmo riflettere molto su questo e soprattutto io penso noi dovremmo dare più testimonianza di impegno in queste cose a farci sentire anche perché ci facciamo sentire poco il nostro solito difetto ci facciamo sentire poco poche persone fanno gran chiasso tante non parlano certo certo non va neanche bene comunque va bene ok allora ricordiamo l'abbonamento ricordiamo l'abbonamento all'araldo l'avvenire digitale per tutto il 2023 quindi non ce lo dimentichiamo acquistiamo l'araldo dobbiamo soprattutto poi settimana prossima si parla della nostra montagna non si può fare diversamente comunque abbonatevi acquistate l'araldo c'è anche altri articoli bellissimi all'interno del giornale di questa settimana del settimanale compratelo così li scoprite anche voi grazie salvatore grazie a voi grazie a tutti voi e arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti